Numerose squadre dei vigili del fuoco impegnate nella mattinata di martedì 25 luglio tra i comuni di Villanova Canavese, Capaste, San Carlo Canavese e Ciriè per la messa in sicurezza della zona, in seguito ai danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto questa notte. I diversi alberi caduti hanno danneggiato cancellate, cavi dell'elettricità e della telefonia e hanno messo in serio rischio varie abitazioni. I vigili del fuoco in queste ore stanno lavorando senza sosta sul vasso territorio. Grazie a tutti.